Non dire questo Agrippa, se Cleopatra ti udisse ti farebbe un giusto rimprovero. Non sono ammogliato Cesare, lasciami ascoltare ciò che dice Agrippa. Beh, per unirvi in perpetua amicizia, per rendervi fratelli e legare i vostri cuori con un solido nodo, prenda Antonio Ottavia per moglie, la cui bellezza e reclama sposo non peggiore del migliore degli uomini. Delle sue virtù e di tutte le sue grazie non si potrà mai parlare abbastanza. Con questo sposalizio le piccole gelosie che ora sembrano grandi e tutti i grandi timori che si nutrono di questi pericoli avrebbero fine. La realtà sarebbe favola, mentre ora la mezza favola è realtà. Il suo amore per voi porterebbe con sé il vostro e l'amore di tutti su questo esempio. Perdonate ciò che ho detto, ma è un'idea maturata, non del momento. Vi ho assai lungamente meditato.